Contro Sassuolo schiera un tridente veloce, Menès da falso 9 che si procura il calcio di rigore con un tocco dubbio di mano di Terranova dagli 11 metri, il francese non sbaglia, segna l'1-0, ai suoi lati ci sono El Sharawi a sinistra e onda a destra e proprio dal giapponese nasce il raddoppio, il lancio perfetto per El Sharawi, la sua percussione, il 2-0 batte Pomini, El Sharawi che non segna in campionato da febbraio 2013, gol nel derby, da lui ci si aspetta una grande stagione, il Milan vince il trofeo team. Grazie